Auditorium, i concerti di Ameria Radio. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Questa sera ascolteremo di Anton Bruckner la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore nei suoi quattro movimenti. Adagio allegro, adagio scherzo molto vivace, finale adagio allegro moderato. Sul podio, Eugien Jochum che dirige la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.